Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovissimo video di Advent Brothers Io sono Jaguar e qua con invece Herox e stiamo giocando un po' a poker su Minecraft Yeah, eh, discoteca time again Yeah, 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 e che carte hai? Apri Eh, ah, già scusami Allora, se non sbaglio, colore Poi io ho un poker, poi io non so giocare Quindi ho vinto io Sì, 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 ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto Ok ragazzi, oggi non siamo qua per cazzeggiare e fare video su poker Ma se vi interessa, vi insegniamo E qua con noi c'è anche un ospite speciale che è Lui LAL LAL Merco8F di te ragazzi What's up, what's up Perché hai messo le frecce, non ho capito perché hai messo le frecce What, tiraglina frecce No, 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 io mi nascondo Comunque Ok ragazzi, eh, su questo video, aspetta, 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 bella ragazzi, suon me Su questo video non siamo per cazzeggiare Ma siamo per una ragione Che ve lo spiegherà Mirko Ok, no, no, prima dobbiamo, siamo noi gli intervistatori, ma sei ubriaco Allora, innanzitutto, venite qua al tavolo di lavoro Dobbiamo tirare le carte Sul tavolo di poker Sì, 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 vengo anche a giocare Ok, allora Mirko, ma spesso che non hai soldi che ti ho sfondato ieri Ecco, io ho preso l'altra parte No Comunque, già, noi siamo gli intervistatori, vieni di qua Sì Hai un microfono? Ovvio Ok, ho preso il microfono Ok, ok Allora, prima domanda Stai zitto Allora, perché in questo periodo hai mollato YouTube? Allora Diciamo che la community italiana di YouTube non è delle migliori Intanto, fatemi un bocchino Vabbè, comunque Cioè La community italiana non mi piace per niente Ci sono guerre su guerre su YouTube E poi ci sono Il fatto tipo Per esempio degli iscritti non attivi Cioè, quelli che si iscrivono e poi non guardano i video Senza che fai iscritto di cambio, oltretutto Cioè Che cazzo ti iscrivi a fare? Non ha senso per me Già Beh, quotiamo in effetti Vuoi dire qualcosa ai tuoi iscritti che Gli vuoi tanto bene? Ovvio che voglio tanto bene ammi iscritti Comunque non ho mai detto che ho smesso di fare video Infatti Su questo canale, questo qui Io continuerò comunque a finire le serie che avevamo iniziato prima Tipo Sky Island Esatto, Sky Island e tutto E poi approssimamente credo una serie in 3, tutti 3 0 Ovvio, perché SkyBio Perché mi lasciano sempre da soli questi bastardi Eh, ma tu non avevi la scheda video E appunto Non ho scheda video, carta video Carta video, carta grafica Questa qua di carta Tutte qui Eh, comunque Se avrò tempo dopo di iniziare, mi ritornerò Aspetta, non ti... non andare via perché ho il microfono qua e non ti sento Eh, infatti vai piano, stai buono qua Io sto qua Comunque Eh, altre cose che magari voi rilasciare Ah, comunque ovviamente farei altre serie con noi Non solo quella di Sky Island L'abbè, l'ha appena detto io Ah, ok, sono sardo No, perché no, no, perché lui vuole partecipare a chi mi ha fatto appunto Cioè, non so se si è capito la cosa Ok, mettiamo perché non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, sono ombrellone Eh, sì, ombrellone molto fashion Non mi ha detto Non mi ha detto Molto Molto, no, come Che cavolo Eh, cosa pensavi di fare Vabbè, comunque, cosa dobbiamo dire più Poi, che c'è da dire di altro Beh, questo qua, diciamo, che era un video, diciamo, dedicato a Mirko Sì, e ora chiamiamo questo video sdroghiggendo Tipo così Che era veloce Venite tutti qua Venite tutti qua Ok Ringrazio, naturalmente, i FensiBroaders che mi hanno concesso questo video E ringrazio Mike F***** Perché non lo sa, Irox, il suo nome è Mike F***** Immaginate nell'appello F***** Mike F***** Bella 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 Ma cosa bella Oh, il che dove Sta fuocando Vengono, vero, a duciderti No, guarda quello con le frecce si è preparato Oh, dai, non fatemi così, ora dai Perché fate così Ah, vabbè Che dire, bella Bella ragazzi, ci vediamo in un altro video Ok Irox, saluti Fottetemi No, bella ragazzi Quattro Grazie a tutti